L'esperta importante è quella del partenio per il Catanzaro, incontrerà un avversario ossico, al di là della posizione di classifica c'è comunque rispetto per la squadra bianco-verda, Renata D'Arrestelli che con l'avvento di Rastelli in panchina ha sicuramente avuto una spinta di entusiasmo, poi tra le altre cose è un allenatore ben voluto dalla piazza di Avellino, quindi un avvenimento da affrontare con le molle. Il Catanzaro sarà seguito da 500 sostenitori, sold out praticamente il settore ospiti, peccato perché potevano essere molti di più, infatti circa 300 tifosi del Catanzaro sono rimasti sprovvisti di tagliando. Per quanto riguarda la formazione del Catanzaro al momento ci sono tanti punti interrogativi perché diversi elementi in settimana non si sono allenati a pieno regime, potremmo ipotizzarla sulla farza riga di quelle che sono state un po' le ultime formazioni schiarate di Avellino, ovvero Fulignati in porta, difesa a tre con Martinelli, Brighenti e Ascogna e Milo, centrocampo a cinque con gli esterni Van de Putte a destra, Tentardini a sinistra, in mezzo Verna, Sunas, dovrebbe orientare Gion, in attacco Giammello-Biasci, questo sembra essere l'undici più probabile ma molti dubbi sono comunque sul centrocampo a cinque.